Ciao da Afsim! Anche se a diverse ore di distanza, il giorno dopo non è facile fare un'analisi lucida e serena di questo Lazio-Juventus 3-1 perché prevale la contrarietà, prevale lo sconforto, prevale il senso di negatività che lascia questa partita. Anche se, e agganciamoci subito alle parole di Maurizio Sarri, per Sarri appunto si è trattato di una partita positiva, si è trattato di una prestazione quasi ottima tra le migliori della stagione, soprattutto nel primo tempo, ma anche considerando un'ora di gioco fino praticamente al momento dell'espulsione di quadrato. Che per Sarri è stata determinante, ma lo è stata sicuramente perché è stata una sliding door, però poi veniamo a quello che poteva essere uno sviluppo diverso della partita anche a partire da quell'espulsione. In che senso è stata una prestazione positiva? Sarri ha parlato di miglior primo tempo praticamente della stagione, o comunque miglior prestazione per quanto riguarda il baricentro, per quanto riguarda il palleggio, per quanto riguarda anche l'applicazione tattica. Possiamo essere d'accordo perché la Juventus fonte Huskord, come tutti i dati che vi illustrerò di qui di seguito, compresa qualche grafica, ha fatto 603 passaggi su 735 tocchi, quindi un tasso, un rapporto dell'82%. Siamo saliti rispetto alle scorse partite quando eravamo al di sotto dell'80%, significa che il gioco è stato veloce e che il gioco è stato di prima. Sì però vediamo un attimo le hitmap delle squadre, vedete a sinistra la Lazio, a destra la Juventus e ditemi se questo palleggio è stato o meno sterile. Io dico di sì perché è vero che abbiamo occupato di più il campo, abbiamo fatto più tocchi di palla, però la Lazio è stata nettamente più efficace. Guardate la verticalità della Lazio, l'esplosività della Lazio nell'andare in costruzione avanzata. E guardate invece come la Juve si arena sulla tre quarti, non siamo andati in area di rigore, non c'è stato palleggio sulla tre quarti, non c'è stato palleggio in area di rigore, ci siamo fatti fermare dai quinti della Lazio, dagli esterni della Lazio, come potete vedere da queste zone più rosse a destra e a sinistra, e quindi significa che questo palleggio è stato fondamentalmente orizzontale e fondamentalmente perimetrale. Questo ce lo dicono anche i passaggi che sono stati effettuati verso il terzo offensivo, altra grafica. I cerchietti arancioni sono il punto di partenza dei passaggi verso il terzo offensivo effettuati dalla Lazio, con ovviamente la Lazio che in questa grafica attacca da sinistra a destra, quelli azzurri sono della Juventus. Quindi come potete vedere la Lazio è riuscita ad avere maggiore verticalità perché per arrivare con il pallone verso il terzo offensivo è partita anche dalla difesa addirittura, cioè dalla difesa ha fatto passaggi verso il terzo offensivo, dalla tre quarti difensiva ha fatto passaggi verso il terzo offensivo, dalla metà campo stessa cosa. La Juventus invece non prima del terzo centrale, diciamo, neanche nel terzo difensivo è riuscita a fare passaggi verso il terzo offensivo, ma poi soprattutto vedete quanti pochi passaggi ci sono in area di rigore e a ridosso soprattutto dell'area di rigore, con una maggiore intensità sul lato sinistro ed infatti vi dico subito che il giocatore che ha fatto più tocchi di palla è stato Alexandro. Quindi il giocatore più coinvolto con 98 tocchi e 78 passaggi. Spicca Alexandro anche per essere stato il migliore per quanto riguarda gli intercetti, 3. Al secondo posto c'è Pjanic, 82 tocchi, 76 passaggi. Sì ma che partita ha fatto Pjanic? Qui veniamo probabilmente ad un problema atavico ed è una cosa che dico da un sacco di tempo e che credevo che fosse stata risolta e potesse essere risolta da Sarri con Sarri ma al momento non risulta. E cioè Pjanic soffre la verticalità, Pjanic soffre nella fase difensiva perché non ha il fisico per reggere, non ha il fisico per reggere nei contrasti e non ha la corsa per reggere sul contrattacco veloce delle squadre avversarie. Contro la Lazio Pjanic non deve assolutamente stare davanti alla difesa, non deve assolutamente star lì neanche lontanamente a provare a fare da filtro, perché non lo sa fare, non lo può fare, non è nelle sue caratteristiche, non è nelle sue capacità. Lo abbiamo visto, ha sofferto tantissimo Pjanic, oltre al fatto che non è stato assolutamente ma assolutamente d'aiuto neanche per quanto riguarda i calci di punizione. Perché ne abbiamo avuti tanti, ne avremmo avuti di più se l'arbitro avesse arbitrato bene, ma ne abbiamo avuti comunque tanti, soprattutto nel finale sul 2-1 per provare a pareggiare e non sono stati minimamente sfruttati. E questo è inaccettabile perché a un certo punto qualcosa ti deve pure andare bene se non riesci più a fare, perché sei in 10, non riesci più a fare pressione offensiva, non sei riuscito neanche in 11 a fare buon palleggio offensivo, non riesci a tirare in porta, beh, almeno che qualche calcio di punizione riesci a farlo bene. Per quanto riguarda la carenza, la carenza offensiva, vediamo, vi mostro l'ultima grafica che è quella sui key passes. Cioè guardate i key passes della Lazio, che sono quelli arancioni, dove quanti ne hanno fatti? Addirittura uno dalla trequarti difensiva. Cioè hanno mandato al tiro un giocatore dalla trequarti difensiva, che è stato probabilmente in questo caso Milinkovic-Savic nel secondo tempo. No, Milinkovic-Savic nel primo tempo, credo, lì perché ha tirato ed è stato ribattuto il tiro, ed era lì quando non ha segnato, praticamente quando ha fatto quell'ottimo stop. Forse è stata quell'occasione, ma non importa. Mentre la Juventus ha fatto innanzitutto soltanto cinque key passes, cinque, e rivedete che sono stati praticamente molto allargati, ci sono stati anche dentro l'area di rigore, ma non ci sono stati a ridosso dell'area in posizione centrale, poi soprattutto sono soltanto cinque, sono soltanto cinque. Ed infatti abbiamo avuto sicuramente una carenza, una penuria per quanto riguarda la fase d'attacco. La Lazio ha fatto diciotto tiri, di cui nove in porta, di cui tredici in area di rigore. La Juventus nove tiri totali, cioè la metà, di cui quattro in porta, cioè meno della metà, di cui quattro in area di rigore, cioè meno di un terzo. Cioè, onestamente, non credo che possiamo salvare molto di questa partita, perché palleggio sì, ma a che scopo? E i key passes, come vi dicevo, la Juve ne ha fatti cinque, e questi che abbiamo visto dalla Lazio erano undici. Cioè, significa che la Lazio ha mandato al tiro i compagni, i giocatori hanno mandato al tiro, i loro compagni, per undici volte, da cui sono nati. Poi, in realtà, ci sono stati anche altri sette tiri in più, che non nascono, evidentemente, da chi passa, ma da un'altra situazione. Abbiamo fatto possesso palla, 60-40, ma a cosa è servito? Abbiamo fatto una maggior precisione dei passaggi, 89-83, ma a cosa è servita? Nei duelle aerei ci siamo eguagliati, 50-50, e questo probabilmente è stato un modo nostro anche per evitare ulteriori attacchi, perché ci sono stati tanti momenti in cui la Lazio ha provato ad alzare il pallone e De Ligt ha svettato molto bene di testa, o comunque in fase difensiva si sono stati abbastanza bravi a respingere. In generale, la linea difensiva è stata molto compatta, molto precisa, ma nonostante questo, e veniamo all'analisi dei gol, ci sono delle colpe dei difensori. Sull'1-1, in realtà, la colpa è di Matuidi. Ho rivisto il gol e chi doveva prendere Luis Felipe era Matuidi, perché De Ligt e Bonucci dentro l'area erano già, pur se con marcatura a zona, perché venivamo da un corner, nell'immediatezza post-corner, erano comunque ognuno su un uomo, grosso modo, a coprire la zona di un solo giocatore avversario. Luis Felipe, che proviene dall'esterno, se lo perde Matuidi, ma proprio Matuidi stava marcando Luis Felipe, Matuidi si addormenta completamente, Luis Felipe giustamente va a colpire di testa da solo, non è che Bonucci, con il quale possiamo anche prendercela, non è che può andare a prendere i palloni di chiunque, deve marcare anche i suoi, le sue zone, quindi colpa di Matuidi. Sul 2-1 è colpa di Alexandro, che vede partire Milinkovic-Savic, lo stava marcando stretto, all'allenta la marcatura, quindi lo lascia passare, e non riesce neanche a fare fuorigioco con Bonucci, e a quel punto è troppo tardi, perché Bonucci non se lo vede arrivare, anzi, De Ligt, perché Bonucci era più in avanti, era più verso il pallone che proveniva dalla tre quarti. De Ligt non se lo vede arrivare Milinkovic-Savic, fa la diagonale precisa De Ligt, anche pronta, anche con la giusta velocità, ma è troppo tardi, perché Milinkovic-Savic, vista la velocità del suo inserimento, ottimo, ha fatto un grandissimo gol, grandissimo gol, ma potevamo evitarlo, è chiaramente in vantaggio su tutti, e lì sbaglia Alexandro. Sul terzo gol, la colpa principale è di Danilo, perché chi perde il possesso avanzato, lì su quella situazione, da nostro possesso avanzato, è Danilo, e poi vanno in campo aperto, ma diciamo che il 3-1 conta poco. E quindi c'è questa problematica per quanto riguarda la fase difensiva, soprattutto sul gol del 2-1, dove ha sbagliato Alexandro, ed avevamo praticamente la difesa schierata, ma in realtà anche sull'1-1, con una distrazione assolutamente evitabile. Va detto poi, che De Ligt, per esempio, è stato il più preciso nei passaggi, 93,4, e questo è un dato allarmante, perché significa che ha dovuto fare troppi passaggi lui, e la sua elevata precisione, elevata in assoluto, perché 93,4 è elevata, ma superiore anche a quella dei centrocampisti, conferma il fatto che non c'è stato tutto questo bel palleggio a centrocampo, perché altrimenti Pjanic sarebbe stato il giocatore più preciso, e non lo è stato. 11 passaggi lunghi, tra l'altro per De Ligt, 11 passaggi lunghi, e questo è anche un qualcosa che non doveva, 11 passaggi lunghi riusciti, bravissimo, ma è un qualcosa che non doveva caratterizzare la nostra partita, e anche due respinte difensive. Il migliore dei contrasti è stato Quadrado, e qui in tolto Quadrado abbiamo smesso di fare contrasti, praticamente, ma d'altra parte non è la prima volta che Quadrado è il migliore dei contrasti, perché ne vince spesso. Il migliore nei key passes è stato Bentancur, che ne ha fatti due, e infatti, cioè due key passes su cinque, ne ha fatti Bentancur, che è uscito al quarantesimo. Rendiamoci conto di quanto abbiamo sofferto l'uscita dal campo di Bentancur, ma non è una cosa molto accettabile, diciamo così. e poi Bentancur ha anche tre dribbling falliti, così come Dybala, che ha perso tre palloni come Ronaldo, e va detto che Dybala, pure in una partita opaca, perché si è divorato un'occasione clamorosa, è stato insieme a Ronaldo quello che ha fatto più tiri, tre tiri Dybala, di cui due importa, due tiri Ronaldo, di cui due importa. Ma venendo a Dybala, c'è stata una critica fatta da Sarri, che va assolutamente sottolineata e memorizzata, e cioè sul rosso a Quadrado, cioè sul capovolgimento di fronte, che ha portato all'espulsione a Quadrado, eravamo su un nostro corner, battuto male da Bernardeschi, c'è un errore di posizionamento da parte di Dybala, ha detto alcuni giocatori, in particolare Dybala, non hanno rispettato le consegne che gli erano state date su quella situazione lì, perché il limite dell'area della Lazio era scoperto, per cui a palla persa sarebbero andati in campo aperto. E non puoi fare un errore del genere. Ora, colpa di Dybala, colpa di Dybala, ma io credo che se Dybala si fosse posizionato in quella posizione, in quel caso, in quell'occasione, correttamente, magari la ripartenza l'avrebbero fatta lo stesso, ma se l'avessimo sventata, ci sarebbe stata in un'altra occasione, cioè voglio dire questo, che colpa di Dybala, che pesa tanto, la prestazione negativa di Dybala per certi episodi pesa tantissimo su questa sconfitta, però non credo che un altro giocatore, non credo che saremmo stati, diciamo, esenti da responsabilità in situazioni simili a parte questo, non credo che un altro giocatore al posto di Dybala avrebbe fatto la cosa giusta, cioè ieri sono state tante le distrazioni e voglio chiudere, chiudiamo intanto con gli XG che sono stati 2,26 per la Lazio e 1,47 per la Juve, quindi anche quando Sarri dice che fino al cinquantesimo, sessantesimo, fino all'espulsione, grossomodo, avevamo concesso poco ad una Lazio fortissima, non sono d'accordo, perché è vero che poi questo expluade XG la Lazio l'ha maturato nel finale, cioè di expected goals, cioè di valore della produzione offensiva, però comunque il distacco è importante, è significativo, la Juve avrebbe meritato di segnare forse il secondo gol, ma infatti ce lo siamo divorati, quindi non è che ce la possiamo prendere con qualcun altro, però obiettivamente questo dato XG mi dice che 3 a 1 è il risultato congruo, o 2 a 1, ma 2 a 2 non sarebbe stato assolutamente un risultato diciamo appunto congruo per quello che si è visto, credo io. E chiudiamo con un discorso che anticipo, poi ne parlerò anche più diffusamente in un altro video, secondo me al momento dell'espulsione di Quadrado non andava inserito Danilo, non andava inserito Danilo e dovevamo giocare con la difesa a 3, perché ripeto, è vero che la Lazio ha giocato sugli esterni, ma non ha giocato sulle fasce, ha sfruttato il gioco nei mezzi spazi, diciamo così, per andare ad aggredire in verticale la Juventus, quindi potevi permetterti di non avere i terzini, ma non potevi permetterti, ed infatti è stata una grave carenza, di non avere più il giocatore che andasse a fare pressing alto come lo aveva fatto Bernardeschi finché è stato in campo. Togliendo Bernardeschi, lo ha detto anche Saris, siamo una squadra non in grado di reggere in 10, alcune squadre possono giocare in 10, questa squadra fa fatica. Bene, abbiamo fatto fatica perché bisognava, a mio avviso, abbandonare il dogma della difesa a 4, mettere la difesa a 3 in quel frangente e quindi, di conseguenza, tenere alto comunque il baricentro e tenere alta la linea d'attacco composta da 3 elementi, cioè dovevi giocare con il 3-3-3 o 3-3-1-2 allargando magari Emre Can per fare un po' di fascia, visto che l'esterno di fascia lo può comunque fare, dall'altra parte c'era Matuti e tenevi Bernardeschi. Questa secondo me era la cosa da fare e addirittura, vi dico di più, persa per persa, io a un certo punto avrei tolto Bernardeschi e messo Higuain, sì, in 10, 3-3-3 con il tridente pesante, assolutamente. Avete visto Inzaghi cosa ha fatto? Ha tolto Milinkovic e Savic e ha messo Caicedo, cioè ha tolto un centrocampista e ha messo un attaccante che gli ha fatto anche il terzo gol. Di cosa parliamo? Ma non, questo non voglio dire che Sarri è un difensivista perché chiaramente non lo è, però ha questo dogma della difesa 4 che secondo me a livello di analisi tattica andava inserito nel ragionamento. Ditemi la vostra nei commenti, grazie per aver guardato, avremo tempo comunque per sviluppare ulteriori analisi su questa partita e sulla Juventus di questo momento. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie a tutti!